4.764.270 euro. Questa è la cifra sbloccata dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per i contributi alla stabilizzazione di 665 lavoratori ASU che si occupano cioè di attività socialmente utili. I destinatari della somma pagata dalla regione siciliana sono 68 enti che hanno stabilizzato i lavoratori ASU che operano nei loro uffici. Il tema della stabilizzazione di tali lavoratori infatti è stato più volte trattato in passato con interventi anche da parte dei sindacati e per i lavoratori ASU era stata predisposta nei mesi scorsi anche un'integrazione oraria. Dopo la liquidazione delle ore di straordinario poco prima di Natale con questo nuovo provvedimento la regione dimostra ancora una volta la giusta attenzione verso questi lavoratori afferma l'assessore Nuccialbano che pur dopo aver vissuto anche più di un decennio nel precariato sono diventati una risorsa umana e professionale indispensabile al normale funzionamento degli enti locali. La stabilizzazione conclude consente di dare così serenità e sicurezza a queste persone e alle loro famiglie.